PlayStation VR 2. Questo è il nome del nuovo visore dedicato esclusivamente a PlayStation 5 che, insieme al nuovo controller VR, il PlayStation VR 2 Sense, rivoluzionerà il mondo della realtà virtuale. Il PlayStation VR 2 è stato annunciato solo poche ore fa sul sito ufficiale Sony dedicato a PlayStation, il PlayStation Blog, e già il web sta impazzendo. Il nuovo visore porta il gioco in realtà virtuale a un livello completamente nuovo, offrendo un maggiore livello di presenza e consentendo ai giocatori di catapultarsi all'interno dei mondi di gioco come mai prima d'ora. Indossando il visore e con il controller in mano, i giocatori potranno vivere esperienze ancora più intense, grazie alle più recenti tecnologie integrate nell'hardware. Questo è quanto ci promette Sony, che d'altro canto non ha mai dell'uso il suo pubblico, dunque le aspettative per questo VR 2 saranno molto elevate. Sfruttando le innovazioni di PlayStation 5, PlayStation VR 2 aggiunge una vera esperienza next-gen, offrendo un'alta fedeltà visiva, nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato, oltre a una configurazione semplicissima. Basterà infatti collegare un unico cavo direttamente a PlayStation 5 per tuffarsi immediatamente nell'esperienza VR. Per un'esperienza visiva ad alta fedeltà, PSVR 2 offre una grafica in 4K HDR, un campo visivo di 110 gradi e un display OLED, e con questo i giocatori possono ammirare una risoluzione dello schermo di 2000x2040 per occhio, e frequenze di fotogrammi fluide di 90 o 120 Hz. Grazie al rilevamento interno-esterno, PSVR 2 rileva l'utente e il controller attraverso le telecamere integrate nel visore VR. I movimenti e la direzione dello sguardo si rifletteranno quindi nel gioco senza bisogno di ricorrere a una telecamera esterna. La tecnologia del nuovo VR, inoltre, combina la funzione di rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l'audio 3D e l'innovativo controller PSVR 2 Sense, per creare una sensazione di immersione incredibilmente profonda. Il feedback del visore è una nuova funzione sensoriale che amplifica le sensazioni dell'azione di gioco. Il tutto è ottenuto grazie a un unico motore integrato, con vibrazioni che aggiungono un elemento tattile e intelligente, per avvicinare ancora di più giocatori all'esperienza di gameplay. Per esempio, i giocatori possono percepire la frequenza cardiaca accelerata di un personaggio durante i momenti di tensione, oppure il passaggio di oggetti che sfrecciano vicino alla testa del personaggio, oppure ancora la spinta di un veicolo in accelerazione. Inoltre, grazie alla tecnologia Tempest 3D Audio Tech di PlayStation 5, i suoni dell'ambiente di gioco circostante prendono vita, per raggiungere un nuovo livello di coinvolgimento. PSVR 2 rivela anche il movimento dei tuoi occhi, quindi un semplice sguardo in una precisa direzione può creare un ulteriore input per il personaggio del gioco. Ciò consente ai giocatori di interagire in modo ancora più intuitivo in mondi nuovi e realistici, accentuando la risposta emotiva e intensificando l'espressione che porta a un nuovo livello di realismo nel gioco. Tutte queste innovazioni di PlayStation VR 2, combinate con il feedback aptico e i grilletti adattivi dei controller PSVR 2 Sense, consentono ai gamer di vivere e interagire con i giochi in modo molto più intenso e profondo. Inoltre, le sorprese non finiscono qui. Una delle più grandi serie esclusive di PlayStation sarà disponibile su PSVR 2, Horizon Call of the Mountain. Questo titolo originale è stato creato appositamente per PlayStation VR 2 e spalanca le porte invitando i giocatori a toffarsi nel mondo di Horizon, in modo ancora più immersivo. Ma veniamo alla parte che più ci interessa, la data di uscita e il prezzo. Per entrambe le domande al momento non abbiamo la risposta, ma lo sapremo nel corso dell'anno. In ogni caso, il VR dovrebbe uscire entro la fine del 2022 e il prezzo, immaginiamo, si aggirerà intorno ai 300-400€, come per il precedente modello. Dal Voodle Melon Channel è tutto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, mi raccomando, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Alla prossima! Alla prossima!